E' un brano particolare che tutti si domandano che cosa voglia dire, perché giustamente è un titolo un po' atipico, un po' sui generis, sui generis, sui generis. Mostriamo il saltello. L'intensità dei lumen puntandoli nella sezione di spazio desiderata. Progetto di musica italiana. Carlo Stanout è un gruppo che è nato a Roma e oggi siamo qui a fare un videoclip. Il progetto è ambizioso, diciamo che è molto artigianale. Diciamo che abbiamo una troupe favolosa che ci ha permesso di realizzare questa struttura in pochissimo tempo. Costruire tutto è stata la cosa più bella. Presenza rilevante di strati di polvere. Buono, però deve essere buono la parte finale. Come la question abbiamo scelto dei vari ambienti della provincia del Giovalab. Io scontornerò, diciamo, i personaggi che verranno integrati in un ambiente virtuale che ricostruiremo con delle foto e dei disegni animati, insomma. Si andrà proprio lisci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.